Ciao da Dove al Sud! Oggi siamo a... Manduria, con Daniele e Daniela! Cominciamo la nostra passeggiata alla Porta di Sant'Angelo! Passiamo sotto l'arco! La chiesa di Santa Maria di Costantinopoli! Che bella! La cupola maiolicata! Piazza Vittorio Emanuele II, c'è il Monumento ai Caduti! Ci troviamo nella Villa Comunale! Abbiamo beccato una giornata caldissima, una settimana proprio bollente! Circondati dal verde! Il Calvario! E la rappresentazione di alcune scene della Passione di Cristo, realizzata con un gran numero di conchiglie e cocce di ceramica di varie epoche e colori, Guardate che bello! È uno spettacolo veramente! Siamo in Piazza Garibaldi! Facciamo una panoramica! Il Palazzo Imperiali Filotico! Il Cortile del Palazzo! Ma chi c'è lassù? Daniela! Ciao! Vi stiamo mostrando Manduria, in provincia di Taranto! In Puglia! La chiesa madre della Santissima Trinità! Ai lati dell'ingresso, i due leoni in pietra! E vediamo un altro dettaglio! Che bello! Stiamo visitando il Rosone! Stiamo visitando l'ex quartiere ebraico! La torre dell'orologio della Porticella! La chiesa del Carmine! E qui siamo? A San Pietro in Bevagna! E a San Pietro in Bevagna c'è? La chiesa di San Pietro! Ritroviamo la chiesa e poi ci giriamo e andiamo al mare! Andiamo! Qui c'è la sabbia bella soffise e guardate che bel mare! Fantastico! È uno spettacolo! Qui c'è la spiaggia libera, attrezzata e c'è Daniela! E qui stiamo andando alla foce del fiume Chidro! Che bello! C'è l'acqua ghiacciata qui, alla foce del fiume, infatti si stanno congelando i piedi, però è un toccasana! Sì! Facciamo questa panoramica! Siamo tornati in villa! Ciao Manduria, da dove al sud? Grazie per il mi piace e condivideteci! Abbiamo anche l'aureola! Ciao!